Una giornata per sensibilizzare i più piccoli sul tema della tutela ambientale attraverso un contatto diretto con la natura che a Umbertide non può prescindere da uno degli elementi identificatori della stessa, il fiume Tevere. Nasce così da una collaborazione tra la FIPSAS, Federazione Italiana della Pesca Sportiva delle Attività Subacque e del Nuoto Pinnato, guidata dal presidente Ugo Claudio Matteoli, e dal primo circolo didattico, l'iniziativa che ha portato 160 ragazzi a scoprire la bellezza della pesca sportiva in una mattinata che ha anche introdotto temi importanti come il rispetto dell'ambiente e la sana alimentazione. Il progetto ha visto coinvolte tutte le classi della scuola primaria di Umbertide Garibaldi e tutte le classi della scuola a tempo pieno di Pierantonio. Un progetto molto interessante perché ha visto come protagonista un monumento del nostro territorio, che è appunto il fiume Tevere, conosciuto dai bambini in tutte le sue forme, a 360 gradi direi. Con il fiume Tevere si sono divertiti a fare passeggiate, si sono divertiti a fare giochi lungo appunto il parco aliacente al fiume stesso, ma nello stesso tempo hanno imparato quali sono le caratteristiche salienti appunto di un territorio fluviale, la flora e la fauna tipiche, hanno fatto esercizio di pesca proprio per conoscere e salvaguardare il territorio. Stamattina si sono impegnati in tante attività e hanno osservato persino al microscopio dei macroinvertebrati e questa è stata un'attività che per alcuni bambini era la prima volta, non avevano mai fatto un'attività del genere. Coinvolti in questa giornata anche gli associati dell'Università della Terza Età per un concreto passaggio di conoscenze intergenerazionale tra giovani e meno giovani, preso atto di come l'attività sportiva all'aria aperta, ivi compresa la pesca, sia pratica importante a favore degli OVAR 65 per garantire una migliore longevità. Noi siamo ben contenti di aver partecipato a questa iniziativa perché ci ha permesso di imparare cose a proposito dei nostri obiettivi generali come quello a cui facevo riferimento sull'integrazione tra varie generazioni e che ci permetterà poi di impostare e migliorare la nostra attività che si fa istituzionalmente.